Comunque, per l'amor di Dio, uno si può sempre sbagliare, anche perché giustamente non è in base alle parole che hai la bolla di cristallo per sapere il tipo di lavoro e di risultati che riuscirà a portare un allenatore. Però sentire sempre le parole di Tiago Motta alla vigilia di una partita che poi si può rivelare positiva come Como e Verona o negativa, tutto sommato, nel momento in cui sei la Juventus come Roma e come Empoli, ecco, comunque veramente Tiago Motta ti dà sempre la percezione, utilizzo semplicemente questo termine qui, la percezione che per come è impostato, per quella che è la sua metodologia di lavoro e la voglia di arrivare che traspare, dice ok, anche se magari all'inizio in una maniera comprensibile, legittima, si può incappare in qualche passo falso, il tempo probabilmente darà ragione a lui. E soprattutto questo non lo posso regare, lo spero, lo spero, anche perché qualora così non fosse starebbe automaticamente a significare che i risultati della Juventus potrebbero un tantinino latitare e non è sicuramente la cosa più bella del mondo. E anche oggi, nonostante tutto, ci ha dato diversi spunti interessanti e prima di entrare nel merito, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace, di sostegno, di supporto, anche perché siamo alla vigilia del ritorno in Champions League, posto che comunque l'anno scorso non è che non l'hai giocata per demeriti sportivi, sappiamo benissimo tutti quanti quelli che sono stati motivi, ci mancherebbe altro. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, che al di là di tutto quella roba lì è sempre la roba più importante, soprattutto se costantemente vedete i video e magari avete piacere a contribuire alla crescita continua e costante del canale, come comunque meravigliosamente già stiamo facendo e non ci possiamo neanche troppo girare attorno. Detto questo, per carità, quando Tiago Motta parla, dà poco spazio alla cacciara prepartita o al titolone da mettere poi sui siti di informazione o magari sul giornale il giorno dopo, quello poco ma sicuro. Spazio al campo, spazio agli aspetti positivi che si devono cogliere della Juventus, sempre anche col massimo rispetto nei confronti dell'avversario. Sempre con immenso piacere, sinceramente noto, che a livello di domande veramente la solfa è decisamente differente rispetto a quella che eravamo abituati a vedere e quando magari si va alla ricerca tramite una domanda del titolo sensazionalista, ecco, si ferma tutto al secondo uno e tanti saluti. Si deve pensare solamente al campo, al lavoro, a migliorare e soprattutto a quella che sarà la partita del giorno dopo, che indubbiamente in questa circostanza sarà una partita molto importante. Sarà una partita molto importante intanto perché giustamente a distanza, che cos'è che era, momenti dicembre 2023, torni, anzi magari dicembre 2023, dicembre 2022, torni a giocare la Champions, che comunque è il momento in cui sono passati quasi due anni a momenti, a maggior ragione, nel momento in cui c'è un format completamente nuovo. Perché gli hanno fatto tante domande riguardo il nuovo format, riguardo il numero di punti che la Juventus dovrà ottenere presumibilmente per provare ad ambire ad andare direttamente agli ottavi, che per l'amor di Dio sono domande anche legittime, sono domande anche legittime. Però effettivamente è difficile dare una risposta nel momento in cui, essendo quella di domani, tra l'altro letteralmente la prima partita del nuovo format della Champions League, non puoi sapere come si andrà a sviluppare il tutto. Ci parla, come ha detto anche Tiago Motta, di uno studio fatto che per accedere agli ottavi dovresti fare 23 punti, però, porca miseria, anche è difficile pensarlo nel concreto, nel momento in cui 23 punti su 24 a disposizione è anche praticamente impossibile farli, tra le altre cose. Vabbè, al massimo puoi ambire a farne 22, seguendo questo ragionamento con tre vittorie e un pareggio. Alla portata della Juventus? Eh, non lo so. Non lo so. Cioè, ovviamente noi lo speriamo tutti quanti, però purtroppo, vedendo la combinazione degli otto match della Juventus, certo, forse a parte col Manchester City, ha la possibilità di giocarcela con letteralmente tutte quante, ma in virtù di questo girone unico, dove in base ai punteggi di tutte le squadre viene stilata una classifica singola e non più tramite i vari gironi, probabilmente forse è meglio incontrarne due che sulla carta sono più forti di te e sei che magari nel tempo libero si danno al rutto libero che magari quindi hai la possibilità forse alla fine di tutto quanto di tirar su un numero di punti sulla carta superiore. D'altro canto, però, tu comunque sei la Juventus, forse appunto a parte col City, con le altre sette, te la giochi tranquillissimamente e quindi bisogna avere anche, no, l'ambizione di scendere in campo per affrontarle tutte soprattutto nel migliore dei modi e lì siamo tutti quanti d'accordo. Poi, come si andrà a sviluppare il nuovo format nella fase, tra virgolette, a gironi, nel momento in cui i gironi non ci sono più, ce n'è uno e singolo, questo lo vedremo, questo ovviamente lo vedremo e sicuramente moltissimo passerà anche proprio da quella che sarà la prestazione di domani perché comunque è vero che quando si parla di PSV ovviamente devi contestualizzare il tutto alla realtà del calcio olandese che per quanto affascinante e storicamente importante ci mancherebbe non lo puoi comunque paragonare alla Serie A, alla Premier League, alla Ligan, alla Liga e alla Bundesliga. Anche qui probabilmente siamo tutti quanti d'accordo però giustamente si parla di una squadra che nelle prime 5 partite di Eredivise comunque l'ha buttata dentro 20 volte e se tanto mi dà tanto c'è praticamente una media di 4 gol a partita 20 gol in 5 partite 20 diviso 5 mi dà un semplice banale 4 che quindi devi anche approcciare e ci mancherebbe altro ulteriormente con il massimo rispetto del caso con il massimo rispetto del caso e soprattutto dovrai fare tu la partita vedendo che comunque tecnicamente anche il PSV è una squadra che vuole avere sempre molto il pallone tra i piedi grande percentuale di possesso palla grande percentuale di aggressività grande percentuale di occasioni create e quindi insomma bisognerà anche prendere le contromisure sempre con il massimo rispetto perché non può valere neanche più il gioco del vabbè giochiamo contro il PSV in casa e purtroppo rischia di non funzionare così perché poi sempre in virtù di quello che è il nuovo format non è che dici vabbè domani approccio la partita d'andata poi al ritorno avremo tutte le varie contromisure del caso no anche perché il PSV passato domani non lo affronterai più quantomeno in questa sorta di fase a girone unico e quindi tutte le partite rischiano di essere fondamentali e incappare nel primo passo falso forse poi può risultare decisivo alla fine di queste otto partite poi un altro tema che sicuramente è molto importante che dal mio punto di vista fa capire anche come Tiago Motta lavori sulla testa dei giocatori riguarda Dusan Blauvic perché ovviamente anche prevedibile dato che viste le prestazioni contro Roma ed Empoli è stato tra virgolette vittima di numerose critiche che hanno fatto la domanda anche Tiago Motta che giustamente ha risposto in una maniera corretta probabilmente Blauvic le critiche le deve accettare perché fanno parte del gioco tutti i migliori anche della storia del calcio quelli che negli anni poi sono stati ricordati come leggende totali hanno ricevuto anche se in una piccolissima fase della loro carriera delle critiche però tu queste critiche le devi farle tue e lavorare affinché tu giocatori in primis riesca a smentire quelle critiche col lavoro che c'è poco da fare purtroppo fa parte del gioco anche la critica soprattutto aggiungo io quando inevitabilmente uno guarda quelli che sono gli stipendi della Serie A e tu sei lassù al primo posto che magari quando devi dare quella zampata per portare a casa delle partite chiuse ed effettivamente hai sulla carta anche la possibilità di poterlo fare con occasioni ghiotte e non lo fai di conseguenza queste critiche arrivano allo stesso tempo però come sempre giustamente ha detto Tiago Motta comunque non è che se non prendiamo gol Blauvic non ha nessun merito perché comunque si difende in undici e se in quattro partite prendiamo zero gol il merito è anche dell'attaccante di quello che magari va a fare partire il pressing e quindi interrompe sul nascere un'ipotetica controffensiva un ipotetico contropiede o comunque delle giocate che può andare a sviluppare il difensore per poi passare al centrocampo all'attacco e magari dar la possibilità alla squadra avversaria di segnare così come nel momento in cui Dusan Blauvic non segna o non concretizza non significa che le colpe siano al cento per cento sue perché comunque è anche pur sempre giusto ricordare che quando si parla di calcio si parla di uno sport di squadra dove se vinci il merito è di tutti i sedici gli undici che scendono dal primo minuto e i cinque cambi e quando non vinci la colpa è di tutti non che i meriti o le colpe se li prendono sempre due, tre e tutti gli altri sono esenti ci mancherebbe altro ed è anche proprio per questo che riprendendo le parole iniziali ogni volta che sento parlare Tiago Motta soprattutto notando anche quello che è il modus operandi di Tiago Motta nel corso degli anni io veramente sono abbastanza tranquillo poi non lo nego riprendendo il video di ieri sera post Monza-Inter sono ancora più tranquillo nel momento in cui vedo magari anche le altre che non sono poi così tanto infallibili eppure loro hanno dei passi falsi d'altronde di che cos'è che si parla di una squadra che è da sola a nove punti altre a otto e comunque sta di fatto che il percorso completo non l'ha fatto nessuno in quattro giornate contro l'altro a parte la partita di domani la prossima della Juventus sarà proprio contro la squadra attualmente nona che sarà nona prima a nove punti che sarà un ulteriore banco di prova per la Juventus per capire se di partita in partita si riesce sempre a fare quello step in più quello step in avanti e quindi adesso ragazzi dai adesso si inizia veramente a fare sul serio perché si alza il livello tra le avversarie e soprattutto si alza il livello della competizione stessa e non c'è nulla da fare così come non c'è nulla da fare che quando sento parlare Tiago Motta dico beh secondo me siamo finiti veramente in buone mani voi ovviamente fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve Grazie a tutti Grazie a tutti